Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Sciopero dai metalmeccanici, un presidio per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro Nuova udienza in tribunale per la statua di Lisippo, esposta al Gheiti Museum di Manibú Chiede l'ergastolo Deborah Lulli per i due presunti assassini del figlio Ismaele Si parlerà di Ictus nella puntata in onda giovedì sera su Fano TV dopo il telegiornale Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione Occhio alla notizia che questa sera apre con la manifestazione, lo sciopero dei metalmeccanici Questa mattina a Pesaro, un presidio organizzato dai sindacati per sollecitare il rinnovo del contratto di lavoro Oggi ragazzi l'obiettivo è quello della riuscita dello sciopero in tutta Italia Presidio e corteo questa mattina nella zona industriale di Pesaro dove un centinaio di manifestanti ha aderito allo sciopero nazionale di 4 ore dei metalmeccanici indetto per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Vogliono togliere i diritti che abbiamo conquistato negli anni come i permessi, le riduzioni d'orario Vogliono togliere gli scatti d'anzianità, vogliono togliere tutti quei diritti che abbiamo conquistato e che ci permettono ancora di avere una dignità nel lavoro Ci sono stati ben sei mesi di trattative Sì, sei mesi di trattative che però fino ad oggi hanno portato a un nulla di fatto perché Federmeccanica rispetto alle richieste economiche ma non solo, anche sulla parte normativa è schierata per un no assoluto sulla rivindicazione della piattaforma unità di CGL, CISL e UIL mettendo sul piatto questioni che riguardano il settore, la crisi del settore ma sappiamo che non è così e noi partiamo da un presupposto che vale per il contratto dei metalmeccanici ma vale per tutti, se non c'è un aumento degli stipendi il paese non si riprende, i consumi non si riprendono quindi non si può far pagare il prezzo della crisi esclusivamente ai lavoratori Era da anni che i sindacati non proclamavano uno sciopero unitariamente e i lavoratori sono giunti da tutta la provincia, anche a bordo di Pullman per manifestare le loro richieste e le tante preoccupazioni poi con striscioni e vessilli in mano e sotto il controllo delle forze dell'ordine hanno dato vita a un corteo passando per via della meccanica e provocando rallentamenti al traffico ma senza incidenti Questo è lo spirito delle persone che sono oggi qua a manifestare quello di richiedere un rinnovo del contratto e insieme alla protesta che oggi esprimiamo avremo anche le proposte per provare a risolvere questo tipo di problema Presidie e manifestazioni si sono svolti in tutta la regione come davanti alla sede di Confindustria ad Ancona, a Macerata, ad Ascoli Piceno e nella zona industriale di Montegiorgio in provincia di Fermo Abbiamo notizie di tutte le fabbriche delle province a partire dalla Benelli Armi, grosse fabbriche, Profiglass dove lo sciopero che è articolato in tre turni quindi sciopereranno all'interno della fabbrica stanno aderendo massicciamente si vuole portare i lavoratori a contrattare ognuno azienda per azienda nel Pesarese il 78% dell'azienda sono sotto 5 dipendenti non alla politica e sì alla trattativa con i lavoratori alla pari dove ci si confronta e si trovano delle soluzioni condivise Un 48enne marocchino pluri pregiudicato senza fisse dimora già espulso dall'Italia è stato arrestato dalla polizia nel quartiere Urbino 2 la frazione di Ponte Armelina per resistenza pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere aveva con sé un coltello ed un bastone gli agenti del commissariato sono stati chiamati da alcuni residenti per un'accesa lite tra due uomini alla quale hanno assistito molte persone tra cui anche diversi bambini uno dei due ha cercato di allontanarsi a bordo di un'auto a luci spente ma dopo un breve inseguimento fino a Gallo di Petriano è stato bloccato nella zona industriale si è dimenato, ha sferrato calci a due poliziotti che sono finiti al pronto soccorso l'arresto è stato convalidato il 48enne ha patteggiato una condanna a un anno di reclusione è stato anche denunciato per minacce ed ingiurie e querelato dall'altro marocchino per aggressione espulso invece un connazionale che era in macchina con lui perché era irregolare sul territorio nazionale Per la strada E78, la fanno Grosseto il Ministero delle Infrastrutture conferma i tempi previsti nel tratto marchigiano i lavori possono iniziare da subito è quanto emerso oggi in un incontro fra il Vice Ministro Riccardo Nencini i rappresentanti di Marche, Toscana e Umbria e dell'ANAS abbiamo confermato l'anno 2021 come data di ultimazione dei lavori ha detto Nencini grazie alla progettazione già utilizzabile di cui già disponiamo comprese le autorizzazioni i lavori nel tratto marchigiano potranno iniziare rapidamente chiede l'ergastolo la mamma di Ismaele Lulli per i due presunti assassini del figlio 17enne voi sapete cosa avete fatto a Ismaele sapete che Ismaele era un ragazzo buono di cuore prima pensava agli amici poi agli altri perché siete stati così cattivi così crudeli in tutti i sensi perché voi dovete chiedere l'ergastolo per voi stessi si rivolge direttamente ai due presunti assassini e chiede che ammettano le loro responsabilità e paghino per l'omicidio di suo figlio Ismaele 17 anni sgozzato secondo gli inquirenti da un amico per una ragazza contesa Deborah Lulli parla per la prima volta in televisione vuole giustizia per il suo ragazzo e lo fa alla vigilia dell'udienza preliminare che dovrà decidere se gli amici del figlio Igli Meta e Mario Mema dovranno essere processati io chiedo che sia giudicato per quello che ha fatto ripeto mio figlio non c'è più la sera non torna più non mi chiama più mamma non mi bacia più non lo vedo più mio figlio non c'è più è il minimo che loro vadano in galliera io voglio che sia dato l'ergazzolo perché è quello che si meritano questo è un luogo bellissimo un luogo che però ha una sua tragicità dove è avvenuto tutto e dove lei molto spesso viene per trovare un contatto con suo figlio sì vengo qui con lui da sola siamo io e lui qual è la promessa che fa a suo figlio quando lei viene qui che giustizia sarà fatta perché lui possa riposare in pace e perché io lo posso piangere in pace nuova udienza oggi in tribunale a Pesaro sul destino dell'Isippo la statua contesa tra l'Italia e il Ghetti Museum di Malibu devo sentire più volte a fior di avvocati sostenere ma è stato un acquisto in buona fede non è vero non è vero non è vero lo sanno tutti c'era anche il professor Berardi questa mattina in tribunale a Pesaro dove è ripartito il processo a porte aperte sul destino dell'Isippo il celebre bronzo di inestimabile valore storico e artistico rinvenuto nel mare adriatico negli anni 60 da pescatori fanesi e poi venduto svincolando le leggi italiane al Ghetti Museum di Malibu una persona che da anni si batte per il rientro in Italia della statua è proprio Alberto Berardi che insieme all'associazione Le Cento Città aveva presentato un esposto dando il via alla procedura giudiziaria purtroppo però le cose procedono lentamente sembra che qualcosa si sia rimesso in moto e questa mattina abbiamo avuto la certezza che il giudice ha fatto un programma cronologicamente definito e fino a dicembre abbiamo l'impegno una volta al mese questa mattina l'avvocato Gaito per conto del Ghetti Museum ha sollevato eccezioni a raffica sulla procedibilità sulla costituzione di parte civile dell'associazione Cento Città sulla parte civile dell'avvocatura dello Stato ricordando come il museo fosse in perfetta buona fede al momento dell'acquisto di tutt'altra opinione è lo storico Berardi non erano in buona fede quando l'hanno comprata perché dicono ma noi eravamo in buona fede non sapevamo no no lo tendevi nascosto perché? l'avvocato ha inoltre ricordato che lo Stato italiano non ha mai reclamato l'opera per almeno 30 anni il PM Silvia Cecchi invece ha chiesto di poter ascoltare testimoni e persone che hanno avuto un ruolo o erano a conoscenza del destino dell'esippo faccia un gesto il Getty Museum che tra l'altro l'ha acquistato in contrasto con il stesso volere del suo proprietario è un bene dello Stato italiano attualmente in California ed è arrivato in California senza che nessuno avesse dato l'autorizzazione avanti così ma sarebbe ancora più bello se il gesto fosse spontaneo e senza andare ancora in tribunale dove peraltro il Getty ha una lunga esperienza il giudice Gasparini ha aggiornato l'udienza al prossimo 18 maggio non deve comandare né la spada né il denaro ma la giustizia torniamo a parlare dell'odissea vissuta dagli studenti di una scuola di Saltara che per andare in gita scolastica hanno dovuto attendere il terzo autobus perché i primi due sono risultati non idonei da un controllo effettuato dalla polizia stradale oggi il dirigente scolastico ha voluto replicare alla testimonianza che vi abbiamo trasmesso ieri di una mamma che ha detto siamo stati lasciati soli preside allora lei tiene a precisare alcune cose sulla vicenda che ha visto protagonisti i suoi alunni nella giornata di ieri sì ci tengo a precisare il fatto che il sottoscritto è arrivato nel luogo di ritrovo di partenza della gita immediatamente appena stato avvisato ovviamente non sono stato avvisato immediatamente per cui sono arrivato lì intorno alle 8.45 però ero presente non appena saputo per l'appunto ci tengo a sottolineare che la scuola ha diciamo nel bando di gara ha modificato gli allegati venendo incontro alle richieste della circolare ministeriale che è uscita di recente dopo i fatti della Spagna ecco diciamo così e abbiamo messo quindi delle prescrizioni molto più rigide dal punto di vista mio ritengo che tutti i controlli abbiano funzionato perché noi abbiamo avvisato preventivamente la polizia stradale e abbiamo anche avvisato tutte le ditte vincitrici dell'appalto che avremmo fatto appunto questo quindi loro sapevano che ci sarebbero stati controlli ecco le maestre comunque erano in diretto contatto con lei e quindi comunque si è potuti provvedere a supportarli in questa loro azione di rimediare a quello che si stava verificando guardi io quando sono arrivato lì ho parlato con la polizia stradale ho parlato con le maestre e mi sono accordato con loro sul da farsi e ho parlato anche con l'autista e a proposito di questo devo dire che intanto le maestre fanno parte dell'istituto quindi che si attivino non c'è nulla di strano che il sottoscritto ha messo a disposizione se stesso e gli uffici per eventuali altre richieste che fossero arrivate mi sono attivato con l'amministrazione comunale immediatamente affinché se non si fosse trovato un mezzo un altro mezzo i pulmini fossero subito pronti per riportare i bambini a scuola ma le maestre giustamente mi hanno detto che non c'era un'altra data possibile per poter recuperare questa visita di istruzione per cui avrebbero sopportare l'attesa di un terzo pullman per poi poter andare e così è stato fatto capisco i disagi quindi questi non è che si possano cancellare ovviamente i disagi non dipendono da noi però me ne dispiace è chiaro però ecco c'è un insegnamento che qualcuno deve trarre da tutto questo ma non certo la scuola magari qualcun altro cioè chi si occupa di trasporti ecco dovrebbe essere un pochino più serio e fare in modo che i propri mezzi siano a posto soprattutto per quanto riguarda le gite scolastiche incidente nel pomeriggio di oggi intorno alle 15 nella rotatoria di Viale Buozzi a Fano un'auto si è scontrata con un motorino condotto da una ragazza che è finita a terra battendo la schiena soccorsa dal 118 è stata trasportata al pronto soccorso cittadino domani sera torna il nuovo programma di Fano TV che tanto successo ha ottenuto nella prima puntata dedicata al pronto soccorso domani i medici dell'azienda ospedaliera Marche Nord saranno qui nei nostri studi per rispondere in diretta alle vostre domande la seconda puntata sarà dedicata alla medicina interna e in particolare all'ictus cerebrale cos'è l'ictus come si riconosce e come si cura quali sono le procedure corrette e i comportamenti da tenere le istruzioni per l'uso di questa seconda puntata di Missione Salute Marche Nord presenterà l'unità operativa di medicina interna con i suoi 104 posti letto e gli oltre 3.700 ricoveri nel 2015 e il fiore all'occhiello la stroke unit dove si curano i pazienti colpiti dall'ictus ospite della puntata il direttore dell'unità operativa di medicina interna parleremo della medicina interna il reparto più corposo dell'azienda Marche Nord che si distribuisce tra il presidio San Salvatore e il presidio Santa Croce con tanti posti letto tanti pazienti e tanti problemi da risolvere uno fiore all'occhiello di questo compressorio è la stroke unit che cos'è e di che cosa si occupa? La stroke unit è una struttura sono 5 posti letto in cui abbiamo dedicato delle risorse solo alla patologia cerebrovascolare sono letti monitorizzati con assistenza infermieristica dedicata con dei medici esperti in problematiche vascolari e neurologiche dove accettiamo i pazienti con ictus ischemico acuto siamo autorizzati ormai dal 2009 a effettuare la trombolisi che è l'unica terapia efficace nella fase acuta di alcuni ictus ischemici e proprio lo scorso anno abbiamo fatto 30 procedure di trombolisi ecco naturalmente il telefono aperto il colloquio con i telespettatori è un momento importante anche di confronto sarà un piacere per noi ascoltare e dare delle risposte dove le abbiamo a tutte le problematiche sulle sedute della persona il confronto con i pazienti è fondamentale perché ci può aprire gli occhi a delle cose che a noi potrebbero anche sfuggire nella seconda parte della puntata i telespettatori potranno rivolgere domande direttamente ai medici ospiti in studio attraverso le telefonate chiamando Fano TV allo 0721 861433 dopo le 20.45 al termine del telegiornale occhio alla notizia ancora segnalazioni di erba molto alta vegetazione incolta in vari punti della città qui siamo in via De Gabrielli a due passi dalla sede dell'Inps a Fano la bicicletta è quasi coperta del tutto dalla vegetazione questa sera tra poco trasmetteremo una nuova puntata di Riciclati Speciale il nuovo programma dei comici del San Costanzo Show e allora ci fermiamo qui con il telegiornale grazie per la vostra cortese attenzione a voi tutti l'augurio di una buona serata grazie a tutti grazie a tutti